Questa sera si terrà l'inaugurazione di questo nuovo mezzo dedicato all'emergenza e urgenza, insomma è stato un po' il nostro fiorello che è lo nuovo, nuova arrivata, acquisita e acquistata con le nostre forze. Passerei ora a ringraziare tutti quelli che si sono adoperati affinché questa serata fosse possibile, soprattutto un grazie a tutti i nostri volontari e dipendenti che con il loro aiuto e la disponibilità permettono quotidianamente lo svolgimento delle nostre attività e soprattutto l'aggiungimento dello spoggio. Ci fa onore essere qua perché teniamo molto questa associazione, Garlasco stessa tiene molto l'associazione. Per chi non lo sa la croce garlaschese era comunale e nasce nel 1976, quindi il comune è sempre centrato qualcosa di importante in questa associazione, si è accaduto fino a che era giusto che la croce garlaschese facesse i propri passi. Il loro volonteroso proposito è manifestino la sollecitudine della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedita Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Kiussi. Grazie. 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 Grazie.